Ben ritrovati! Oggi ho preparato una lista di prodotti che potrebbero sorprendervi. Non voglio dirvi subito di cosa si tratta, ma posso assicurarvi che ne vale la pena. Restate con noi fino alla fine della sigla. Non restate indietro. Unitevi al nostro canale Telegram e scoprite ogni giorno offerte e sconti che non potete perdere. Link in descrizione. Numero 3. La Faber-Agenta è una macchina da caffè a cialde con una capacità di 6 litri e una pressione di 15 bar. Dotata di un doppio gruppo cialda, permette di preparare due caffè contemporaneamente. Il design vintage con pannelli in legno conferisce un tocco di eleganza alla cucina. La lancia vapore è ideale per montare la schiuma di latte, perfetta per cappuccini. Facile da usare, offre anche funzioni come il preriscaldamento dell'acqua e la memoria delle impostazioni. Si adatta bene sia per espresso che per caffè lungo. In descrizione trovi il link di questo prodotto. Numero 2. La Faber Pro Deluxe unisce estetica vintage e funzionalità in un robusto telaio di metallo con dettagli cromati. Questa macchina da caffè, con una potenza di 500 watt e una pressione di 15 bar, è pensata per chi ama l'espresso veloce e di qualità. Con un serbatoio da 1,3 litri, è ideale per l'uso domestico. Facile da usare, prepara solo caffè in cialde e offre diverse opzioni di colore e optional. Le sue dimensioni compatte la rendono perfetta per ogni cucina, 32 x 21 x 35 cm. Acquista questo prodotto con il link che trovi in descrizione. Numero 1. La Faber Slot Plast è una macchina da caffè perfetta per chi ama la praticità. Con una potenza di 500 watt e un serbatoio da 1,3 litri, è ideale per preparare una tazza alla volta. I tempi di riscaldamento sono brevi, grazie al telaio in metallo e al pressa cialde in ottone regolabile. Tuttavia, non permette di memorizzare la lunghezza del caffè. È compatibile solo con cialde e ha dimensioni compatte di 32 cm di altezza, 21 cm di larghezza e 31 cm di profondità. Se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto, clicca il link in descrizione. Grazie per la visione!